Ho preso su un po' di ferrarismo e essendovi così immedesimato ho avuto la tristezza di notare come a Bologna, perché io abito a Bologna, il ferrarese si è considerato di serie B, l'immigrato. Quello che dopo che sono arrivati da Cina, dall'Asia, dall'Africa, al ferrarese è sempre il numero uno degli immigrati. Raccontano ancora le marzellette, me ne hanno detto una qualche mese fa, che c'è in maternità un bolognese, un ferrarese, un senegalese che aspettano che nascano i bambini. Arriva l'infermiera e dice, signori abbiamo avuto un problema, o dico, no no, i bimbi stanno bene, tranquilli, solo che, scusate, sono nati tutti contemporaneamente e li abbiamo confusi, non sappiamo più di chi è l'uno e di chi è l'altro, venite a vedere. Allora questi corrono alla Nulseri, il primo bambino che vedono è nero, nero come il carbone, il bolognese fa, quello lì è il mio. Ma cosa dice? Finché non salta fuori il ferrarese io ottengo quello lì. Ma non puoi fare un'altra città quando ci sono io? Ma guarda che roba!